Il Consiglio regionale ha approvato in aula il disegno di legge 128 licenziato in Commissione Sanità che prevede ristori per 44,5 milioni da destinare alle RSA e alle strutture che ospitano disabili, minori, persone affette da tossicodipendenza o da patologie psichiatriche. Il provvedimento, presentato dall'assessore al welfare Chiara Caucino, prevede 30 milioni per integrare le spese sostenute dalle strutture per sanificare gli ambienti, acquistare dpi, pagare il personale, mettere in sicurezza ospiti e operatori. 10,1 milioni andranno invece alle strutture non accreditate, 3 milioni serviranno per esentare dall'IRAP le aziende pubbliche di servizi alla persona per 3 anni e un milione e mezzo sarà destinato ai fornitori accreditati di servizi domiciliari. Abbiamo messo in campo una misura emergenziale che dà risposta a una fase di grande crisi di queste strutture e speriamo che ne abbiano grande beneficio come evidentemente ci attendiamo. Il disegno di legge è stato illustrato in aula dai relatori di maggioranza Sara Zambaia, Lega e di minoranza Monica Canalis, Partito Democratico, Marco Grimaldi, Liberi Uguali Verdi e Sean Sacco, Movimento 5 Stelle. Si tratta di un provvedimento estremamente importante, non solo per tutto quello che le strutture hanno dovuto sopportare in questi duri mesi di pandemia, ma anche perché ancora una volta è la regione che va a sopperire a determinate mancanze. Una maggiore attenzione per quanto riguarda la distribuzione di queste risorse sarebbe stato sicuramente un servizio migliore per i nostri anziani e le persone che necessitano di assistenza. Speriamo che si possa avviare una riforma del sistema attuale perché non è il sistema migliore per rispondere alle esigenze del 2020 e degli anni a venire. Il provvedimento era necessario, ha dichiarato Canalis, ma si è rivelato per certi versi tardivo e insufficiente. Pensiamo che non si debbano rimborsare le strutture convenzionate appartenenti a società con interessi economici in altre regioni, ha detto invece Grimaldi. Pareri positivi nei confronti del provvedimento sono stati espressi da Alberto Preioni, capogruppo Lega, Paolo Bongioanni, capogruppo di Fratelli d'Italia, Silvio Magliano, Moderati e Alessandra Biletta, Forza Italia. Nel corso della discussione l'Aula ha anche esaminato otto emendamenti presentati da Canalis, Partito Democratico, Grimaldi, Liberi Uguali Verdi e Sacco, Movimento 5 Stelle, senza approvarne nessuno. Ha inoltre respinto due ordini del giorno collegati, presentati dalla prima firmataria Canalis, Partito Democratico, per l'attivazione di nuovi inserimenti in convenzione nelle RSA e la piena applicazione della legge regionale 10-2010 per i servizi domiciliari alle persone non autosufficienti.